Però non è finita qui perché è vero che Chiara ha scelto di intraprendere la carriera di attrice Però mi ha confidato prima alle prove che a lei piace sempre cantare Non è che ha smesso anche di cantare perché come abbiamo detto prima L'arte in generale ci dà la possibilità di esprimere le emozioni Allora tu sei una cantante, io non lo sono, ma canto non perché voglio far vedere che canto e mi piace Per esprimermi, questa è l'esigenza più pura e bella di fare questo mestiere E noi lo facciamo con questo spirito Andiamo al centro perché mica pensi che io ti abbandono qui No non mi abbandonare, prendiamo i microfoni E adesso voglio cantare insieme a lei che cosa Simone fa da presentatore È il momento di due donne poliedriche, due artiste unite dall'amore per il cinema e per la musica Un incontro di anime e di voci angeliche che toccano i cuori del pubblico Con A Modo Mio di Paola e Chiara Dirige l'orchestra il maestro Mestro Cantano Bianca Guaccero e Chiara Jezzi Bianca e Chiara, mi piace! Grazie Simo Grazie a tutti 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 Posso aggiungere con il codice 04 potete votare Io posso salutare Chiara, Chiara ti ricordi buona domanda? Ciao Matilda, ciao certo Grazie a Simone Belli e grazie a Chiara quando vorrai tornare sarai sempre la benvenuta Chiara Grazie, grazie tantissimo a voi tutti Grazie E grazie Simone Belli Grazie Grazie a tutti E un saluto Paola anche Ciao Paola Ciao Paola Grazie Allora oggi grandi, veramente grandi emozioni Grazie a tutti E continuiamo sulla scena delle emozioni